Siamo nell'ambito dello sportello Universo Donna, siamo con Gianna Cavallo, responsabile del settore servizi sociali e pari opportunità dell'Associazione Stella Maris. Abbiamo parlato già di comunicazione, ma nella comunicazione rientrano i social e quindi la creazione di un'apposita pagina Facebook. Sì, e siccome parliamo di un profilo Facebook che raggiunge soprattutto i giovani, va curato come meglio è possibile, perché naturalmente il messaggio deve essere un messaggio ben preciso e positivo. E credo che sia importantissimo, utilizzato soprattutto per il contrasto alla violenza sulle donne. Chi è la responsabile di questa pagina Facebook? La dottoressa Sara Leo, che si occupa di comunicazione. E allora, dottoressa Sara Leo, come intende strutturare questa pagina Facebook? Facebook è uno strumento molto importante, se ben utilizzato. Attraverso di esso puntiamo ad arrivare ai giovani e a dare informazioni ad ampio spettro. Non daremo solo informazioni come nel blog di quello che si fa, delle nostre iniziative e dei nostri scopi. Ma daremo anche modo ai giovani di interagire con noi, non solo dal punto di vista di chi ha già il problema, ma anche per dare informazione preventiva e quindi riuscire a coinvolgere e sensibilizzare. Sì, coinvolgere e sensibilizzare fin da giovani, perché dobbiamo smontare l'idea della donna sottomessa, che da sempre è uno stereotipo errato che ci viene trasmesso dalla nostra società. Quindi un momento anche di crescita proprio mentale. Sì, crescita mentale e interiore, che punta ad aprire le menti e a dare una finestra sulla realtà, non solo positiva e spensierata, come può spesso dare Facebook, ma anche qualcosa di spessore ed importante.